L'entrata è debole. Non si può fare così col gomito, deve essere chiuso. Sono il maestro Wong. Sono Miriam Nakamoto, campionessa mondiale di Muay Thai. Sono Urai All. Yanzo. Tecla Utyrova. Zack Song. Oggi ci occuperemo di arti marziali miste. Muay Thai. Nunciako. Kung Fu. Lotta con lame e bastoni. Scene sul Wing Chun e vedremo quanto sono realistiche. È una bella mossa che mette al tappeto qualcuno. Per quanto riguarda il Wing Chun, si tira un pugno in questo modo, in verticale, oppure se ne sferra uno del genere. In quell'ultimo pugno, si vede il Kung Fu più tradizionale. Quindi alzarsi e girarsi, creare molta potenza. Col Wing Chun in particolare si usano le mani velocemente. È un combattimento molto ravvicinato. Questo è un blocco particolare, il Bakuan. Anche il Wing Chun lo usa con la parte superiore del gomito, ma qui si vede il corpo, che attacca il plesso solare. Questa mossa è utile da utilizzare, la si vede spesso nei combattimenti. Il gomito viene utilizzato per colpi ravvicinati, perché la sua struttura è robusta. Le strutture più forti del corpo sono il gomito, la testa e il ginocchio. Questo è il movimento più marcato, che bisogna essere in grado di difendere. Si combatte contro tre o quattro persone, muovendo la mano qui e qui velocemente. Come faceva Bruce Lee, se quello era Wing Chun? Sì, è un suo elemento. Il movimento che si sta facendo, è questo. Io, invece di colpire il viso con il rovescio, preferisco dare un colpo diretto alla gola, perché nella realtà, è molto più dannoso. Se usasse il Wing Chun, di certo non salterebbe in quel modo. È molto più ampio. Tradizionalmente, il corpo si allarga, il movimento si allarga per l'uso della potenza. Il Wing Chun è più chiuso. Vedete che non si muovono molto, ma rimangono in una zona. Sull'autobus è ideale il Wing Chun. Ecco per cosa è stato concepito, per il combattimento ravvicinato. È quindi un mix tra Wing Chun e arti marziali tradizionali. Posso dare solamente un 5 al realismo. Non si può usare in questo modo, come lo usa qui, nella vita reale. Donnie Yen interpreta il personaggio di Hip Man. Hip Man è una persona reale. Insegna a Bruce Lee, maestro di Bruce Lee. Se dieci karateka si scontrano con un Wing Chun, credo che dieci karateka si mangino vivo il Wing Chun. Lo masticano e lo sputano. Si allenano in modo molto diverso, usano calci e pugni a lungo raggio. Il Wing Chun è a distanza ravvicinata. Quando si entra nel raggio d'azione del karate, il karateka non può usare un'arma, viene limitato, ma se è dentro il raggio d'azione, il karateka può usare un'arma a lungo raggio, come calci alle gambe, per poterlo sconfiggere. Nel Wing Chun, non sono previsti poi così tanti calci alti sopra la vita. Ma in questo caso ha usato calci alti. Li si usa se la gamba è abbastanza buona. Non sempre è necessario colpire sotto la vita. In combattimenti come questo è bene calciare sotto invece che in alto. Afferrare, controllare, dare un calcio, è questo ciò che fanno. Per rompere il braccio e colpire l'arto con un calcio. Ecco cos'è il Wing Chun, è abbattere. Perché è a terra. Controlla un po' più vicino alla posizione dove si trova, quando deve attaccare, perché non vogliono che il nemico sia in grado di arrivare ovunque. Stanno seduti a guardarlo, perché stanno lì ad aspettare il loro turno. Se il mio amico viene picchiato, non sto lì a pensare se è arrivato il mio turno. Non gli darò la possibilità di dare una gomitata nella schiena al mio amico. Ma questo è un film. Classico Wing Chun. Afferrare, controllare, spostare e proteggere. Non appena arriva qualcuno lo si sposta dall'altra parte, dove si vuole che stia e si affronta più persone. Quei mille colpi, mentre lui cade al rallentatore. Perché continuare a bombardarlo? Va bene per il cinema, ma per la realtà no. Andargli addosso in quel modo potrebbe portarti addirittura a cadere. Mentre facciamo questo tipo di movimento, il corpo non è sufficientemente radicato perché è in equilibrio, non si sta dritti ma in avanti. Il karateka deve dargli un calcio nel sedere e farlo cadere. Deve stare a terra e controllato, perché quando sei alto, loro sono bassi e hanno più forza. Ora, a volte ci si chiede mentre si è lì sotto, se mille colpi in faccia a qualcuno siano eccessivi. Sì, lo sono. Il mito più grande che i film mostrano sul Wing Chun dal punto di vista del combattimento è la rappresentazione che si debba fare mille mosse prima che qualcuno si faccia male. Nella realtà dovrebbe essere un colpo, un'uccisione. Per quanto riguarda il cinema, va bene, ma non funziona realmente così. Quindi direi che posso dare al film un 7. Mi piacciono questi film perché le arti marziali funzionano così. Usare la mente prima di agire, perché è la mente che dice al corpo cosa fare. Attaccare la tempia con un classico pugno del Wing Chun mi piace. Ma attaccare la tempia è un po' più difficile, perché è un'area relativamente piccola. Muovendosi in questo modo, si va a mancare il colpo. Attaccare qui è molto meglio. Attacco diretto all'orecchio. Un classico. Ti manda in totale confusione. Ecco perché fa questa mossa. Non può più sentire nulla. Invece di attaccare così, io colpirei diretto il collo interrompendo l'afflusso di sangue al cervello. Sei andato. Finito. Il modo in cui lo fa nella scena sembra debole, perché non si vede bene il movimento dell'intero corpo. Ma si usa il corpo, si devia con tutto il corpo, si chiama Tan Sao. Si utilizza per deviare con la mano. Mentre si fa il movimento con la mano fuori dal raggio d'azione, la struttura del corpo devia la forza. Più forte è il colpo, meno è necessario agire. Fai così e la forza andrà di qua. Vai dritto. Classico movimento da box. Il Wing Chun lo usa, ma non ci si muove come loro, cioè come nella box classica. Col Wing Chun ci si sposta lateralmente e si sale con il Chun Q. È per il secondo livello del Wing Chun, il Chun Q, che utilizza molti pugni. Si attaccano organi, gabbia toracica qui, zona della gola. È un classico movimento. La mano che si avvicina è un po' debole. Se si fa costa e si abbassa, si finisce sulla gabbia toracica. Potrebbe arrivare al gomito, e bisogna passare a fare il Wing Block. La parata della mano deve essere eseguita in modo da coprire la lunghezza della gabbia toracica, altrimenti Sherlock qui rischia di rompersi una costola. Il gomito è debole, non si può fare così, non si ha potenza. Non importa la bravura, il gomito deve essere bloccato, il corpo in linea, tutto in rotazione, blocco. Maggiore controllo del movimento di tutto il corpo. Il colpo di tallone è un classico del Wing Chun. Si usa il tallone perché l'idea è quella di un calcio lungo e deciso, come il pugno e il gomito. In questa situazione, personalmente non vorrei ricorrere a questo tipo di movimento. Per dare il colpo di tallone devi essere in grado di muoverti in modo preciso, perché l'intera gamba deve essere dritta, per poter sferrare il colpo. È difficile da usare. Il colpo di punta che arriva, è un calcio diretto con la punta del piede, dritto al diaframma, al plesso solare, e provocherà lo stesso danno, o peggio. Robert Downey si è allenato per un po' nel Wing Chun, ma è in grado di eseguire bene le mosse? Ora, se dico che non ha fatto bene, non sarà molto carino da parte mia. E se dico invece bene, mentirei a me stesso. Allora dirò che su 10, penso di potergli dare un 4. Questo è un Wing Chun molto classico. Vedete Michelle Yeoh, che rispetto alle scene hollywoodiane è molto diversa, non la vedete muoversi molto. Dunque, nel Wing Chun classico, non ci si muove poi molto, si usa la mano, e si difende la propria visuale a 300 gradi. Tutta questa situazione, la scena è girata in modo divertente, come lui si muove, e come non vuole rovinare quel bel tofu sul tavolo. Perché si parla di tofu? Perché il tofu è morbido. Questo dimostra quanto sia elegante il Wing Chun. Qui, la protagonista è una donna, per questo si chiama Yim Wing Chun, e ha sviluppato questo sistema ad hoc per lei. Non importa quanto sei forte, può usare la sua rilassatezza e il suo movimento per sconfiggere l'avversario grande e forte. Questo è molto classico. Il gomito, e tutto questo movimento qui, può funzionare con il manichino di legno. Se si osserva un'azione contro un manichino di legno, si nota che si usa molto questa mano qui, il gomito che entra, il braccio, la rotazione. Attacco del corpo, gomito che attacca, gomito che difende, tutto quanto. Michelle Yeo è molto brava a far vedere il movimento. Darò a questo un bel 8 su 10. Sono Uriahol, lottatore UFC. Nel mio background ci sono box, kickboxing e kyukushin kai karate. Wrestling e il jiu jitsu. Oggi vedremo scene di arti marziali miste. Sta lanciando pugni selvaggi all'inizio. Non è una cosa intelligente da fare. Rimani aperto. Il tipo grosso poteva solo approfittarne. Se combatto contro qualcuno che è più grosso di me, il movimento sarà sempre importante, perché seguirmi per loro, significa portarli fuori dal loro elemento. Consiglio la velocità su una persona più grande di me. Qualsiasi tecnica in linea retta, perché è sempre più veloce rispetto alle tecniche in rotazione e i colpi al corpo rallentano chiunque. Lo penso come un albero. Se riesco a tagliarli con la radice, allora posso finirli del tutto. Con la ghigliottina che conosco, si può far passare la persona qui, a volte si può far passare il collo qui sotto e usare i fianchi per una posizione più favorevole. L'ha messo contro l'ottagono, quindi è difficile alzare i fianchi quando qualcuno ti preme contro. Ci si può concentrare di più sulle mani, e questa sembra una posizione piuttosto realistica. È decisamente troppo piccolo per farcela. Se qualcuno ti afferra al collo, metterci la mano sopra è una difesa quasi naturale. Quindi devi abbassarti, un altro movimento naturale, per lasciare che così la persona vada a fare una rotazione, ma è difficile sollevarla. Sembra abbastanza buono, un po' teatrale. Se si gira per fare un armbar, fa un passo avanti in questo modo, ma c'è troppo spazio. L'avversario potrebbe facilmente estrarre il braccio, perché nel grappling si deve stare molto vicini. Non c'è nulla di tutto ciò. La cosa che ho notato spesso nelle arti marziali miste o nei film di arti marziali, è che vogliono un grande effetto scenografico e drammatico. Quindi è un nibar davvero buono. È molto profondo. Ha entrambe le gambe che avvolgono. Ha la gamba della persona vicina alla testa. È perfetto. È teatrale. Come mette la mano dietro di sé. Questo ha richiesto troppa energia. Tutto quello che devi fare è chiudere la mano e premere. Per l'IP posso dare sicuramente un voto di 8 su 10. Penso che sia una fantastica introduzione alla MMA e anche una grande storia. Adoro le cose con Van Damme. È sicuramente uno dei personaggi, se non il personaggio, che mi ha ispirato nei calci. Mi esalta vedere i suoi calci circolari. Ho imparato dei calci fantastici. Quando avevo 12 anni, questi erano dei miti. Il calcio circolare come questo è uno dei miei calci preferiti. Ci sono diversi modi per eseguirli. Se si utilizza la parte dello stinco della gamba, consiglierei di colpire la gamba stessa dell'avversario, o naturalmente il busto. Puoi colpirlo anche direttamente in faccia, con lo stinco. Questo non è per nulla possibile. Nessuno se ne starebbe lì fermo, a farsi prendere a calci nello stesso identico modo. Deve tirare su quelle mani il tizio. Sicuramente mi soffermerei a dare ripetuti calci bassi. Da lottatore, penso in modo più simile a un cecchino. Sono un lottatore che aspetta, che cerca il colpo perfetto e lo esegue, e posso essere molto preciso nel darlo. Questo lo devo al mio passato di karateka, perché nel karate dovevamo eseguire i tornado kick e prendere a calci le mele dalla testa l'uno dell'altro. È questo il tipo di precisione che dovevo avere, e tutto ciò mi ha dato un grande aiuto per tutto il resto della mia carriera. Jean-Claude Van Damme è l'unico che tira dei pugni, e poi si piega. Ti soffermi a guardare solo il muscolo e non consideri nemmeno il movimento. È da lì che ho preso spunto per dare il calcio a gancio. Ci sono molti modi per dare quel colpo. Per farlo come Jean-Claude Van Damme, bisogna allungare la gamba come fa lui. Più la gamba è esposta ed estesa, più forte sarà il colpo inferto. Si carica molta potenza col giro. Quando ho eseguito questo colpo per mettere al tappeto il mio avversario ad Ultimate Fighter, ho dato un colpo secco. In quel momento mi sono girato, ma invece di allungare la gamba, di estenderla, l'ho mantenuta in posizione, perché quando l'avversario è vicino a te e tu allunghi la gamba, questo crea uno sbilanciamento. Hai solamente un breve istante, per riuscire a riconoscere quella distanza. Sono davvero anni che provo ad eseguire quel movimento. Non ci riesco ancora. Bisogna essere in grado di realizzare una buona spaccata per riuscirci. Infatti quando si estende la gamba, si usa l'altra gamba per darsi slancio e forza. Non è così realistico come potrebbe sembrare, perché è necessario generare così tanta energia, che ci vuole del tempo per produrla, e in quel lasso di tempo quella persona potrebbe attivare un meccanismo di difesa e fare un passo indietro. Molte persone non allenano questa parte della gamba, quella parte morbida all'altezza del polpaccio o sotto la caviglia. Come colpire con una mazza. Quindi penso che i calci portino a vincere incontri. È un bel film, ma non si avvicina assolutamente alla realtà. Devo dare un 5. Scusa Jean-Claude. Continuo ad adorarti comunque. Come vedete Chiano si sta limitando a eludere i colpi, e anche questo è un aspetto fondamentale. Se qualcuno ti attacca o sta dando colpi continui, la chiave è evitarli. Mi è stato insegnato all'inizio, mai combattere con rabbia. Ti acceca soltanto. Mi è capitato una volta nella mia carriera, e posso dire che ha giocato un ruolo importante nel suo attacco continuo. C'era un'apertura e lui l'ha bloccata e difesa. L'ha afferrata e ha usato una tecnica del judo. Ed è geniale quando qualcuno continua a venire verso di te. Usi il suo slancio per poi atterrarla. La trattiene, ma lei avrebbe potuto dargli un calcio o qualche ginocchiata. Ha le gambe, ma non le stava usando. Non ci sono pause in un combattimento come questo. Non mi fermerei a vedere come sta. Afferri e poi rompi. Ma a parte questo, è stato semplicemente fenomenale. Merito a Chiano per aver fatto tutti i suoi stunt, gli darei un 10. Sono Miriam Nakamoto, otto volte campionessa del mondo di Muay Thai, e lo pratico da oltre 20 anni. Oggi vedremo scene di Muay Thai tratte da film e TV. Il suo tip è bellissimo. Il tip è un colpo di piede. Potete vedere che parte dalla gamba posteriore, va a risalire lungo il corpo, e passa poi direttamente alla gamba che colpisce l'avversario. Questa è la posizione in un combattimento di Muay Thai. Un tip è ottimo se qualcuno continua a venirti addosso e vuoi guadagnare spazio. Un calcio alto alla testa funziona. E se lo dai nel modo giusto, puoi mettere al tappeto l'avversario. Personalmente, preferisco calciare al corpo. Con il calcio alla testa, se colpisci con il piede il cranio di qualcuno, di sicuro gli fai male. Ma non solo a lui, anche a te. E non voglio certamente finire a zoppicare per un mese dopo quell'incontro, con un piede del tutto malandato. Nel Muay Thai, devo dire che non ho mai visto questa posizione. Era davvero molto basso col baricentro. Non si è mai così bassi. Suppongo si è il Boran. Loro lo fanno. Stanno col baricentro più basso, mentre io sto più dritta. La logica del Muay Thai di stare dritti è che quando si subiscono calci e si vuole darne a propria volta, più si è in basso e più tempo si impiega a portare la gamba in alto. Se già sei in alto, puoi semplicemente ruotare il corpo ed è fatta. Se riuscite a prendere il mento, è decisamente una lotta breve. Ho subito molti interventi alle ginocchia, e non erano previsti purtroppo. Ma quello che trovo fantastico delle ginocchiate nel Muay Thai, è che quando si colpisce qualcuno con questa parte del corpo, di fatto gli si toglie la voglia di lottare, diciamo che lo si rende più sensibile. Il modo in cui la esegue, è perfetta. Con la rotazione del femore verso l'interno, la parte inferiore della gamba, e il piede, vanno verso l'esterno. Si puntano le dita dei piedi e si crea un effetto molto più penetrante. Puoi aumentare il raggio d'azione del ginocchio, che ti tiene ancora più lontano dal pericolo mentre inferisci danno. Quei colpi erano terribili. Ma è stunt. Ho fatto una scena di stunt, e mi sono detta che proprio non sembrava realistica. Per un film bisogna portare fuori e girare, per poterlo vedere e apprezzare. Ma quando si combatte davvero, è meglio tenerlo stretto al corpo senza sollevare il gomito. Si vuole ruotare, e colpire, perché più tu dai un segnale col corpo, più il tuo avversario se ne accorge e può prepararsi. La parata con il ginocchio è realistica, mantiene lontano l'avversario, ed è una cosa legittima proteggere il proprio spazio. Sono fermamente convinta che possa saltare fin lassù e mettere entrambe le ginocchia in quel modo, ma non succede nei combattimenti. Troppo rischioso. Insomma, passi fin troppo tempo in aria. Quando invece potresti rimanere a terra, poi avanzare, e dargli una bella gomitata dritta in faccia. Anche questo è realistico, ci si inchina sempre all'avversario, che si vinca o che si perda. Devo dare un voto alto, perché è Tony già. Questo era da 9 su 10. La sua forma è ottima su quei gomiti. Dunque, i gomiti sono l'arma a più corto raggio, in un combattimento di Muay Thai. C'è il gomito alzato. E poi, ci sono la gomitata orizzontale, quella in percussione, e la gomitata ascendente. Qua esegue una gomitata ascendente. In un combattimento non darei gomitate da nessuna parte, tranne che alla testa, perché se vengono date da qualche altra parte, significa che la testa è in basso, ed è pericoloso. Una scena indubbiamente realistica. Quello di certo non è Muay Thai. Di base, per spiegare in cosa consiste il Muay Thai, possiamo dire che è un incontro di pugilato, a cui si aggiungono non solo i pugni, ma anche i calci. E non solo i calci, ma anche le gomitate, le ginocchiate, e le prese. Quel calcio è fantastico, devo impararlo. Il calcio rotante sembra corretto ma non è comune. Non si vede spesso in un combattimento di Muay Thai. Si vedono i calci circolari, i colpi di piede, i calci bassi, i calci a punto interrogativo, che arrivano qui e poi girano intorno. 8 su 10. Solo per la faccenda del salto sulle spalle, e della caduta. Non è realistico, ma tutto il resto andava bene. Lo calpesta. Molto ben fatto. Ottimo lavoro di ginocchia. Il calcio non altrettanto. Non so perché stia dando calci in uno spazio così piccolo. Ci sono molte altre cose che si potrebbero fare. Personalmente, in un contesto simile, darei pugni, gomitate e ginocchiate, perché sono armi a corto raggio. E poi anche il push kick o tip andrebbe bene perché è davanti a te. Non si possono dare calci circolari e nemmeno alti, perché si deve girare nello spazio, invece qui vogliamo che vada solo in questa direzione. In questa scena ha bloccato un calcio con l'avambraccio. E con la mano? Non fatelo a casa, mi raccomando. Mano o avambraccio. Contro stinco. Chi vince per voi? Puoi romperti il braccio o la mano. Devo ammettere che mi piace il fatto che continui a cercare di coprire e bloccare. È sicuramente quello che si dovrebbe fare. C'è da dire che le mani sono un po' dappertutto. Non si fa così. Non funziona. Se qualcuno ti colpisce, devi solo alzare le mani. Gli darei sei, perché nel corridoio di casa vostra non potrete fare un vero e proprio combattimento. Il mio nome è Shifu Yenzu. Dal 1983 ho frequentato e frequento il Tempio Shaolin e ora sono un discepolo. Sono un guerriero di Kung Fu Shaolin, di 34esima generazione. La mia esperienza Shaolin, quindi, è di più di 35 anni. Oggi valuterò alcuni film sul Kung Fu. Lui arriva e tenta di saltargli addosso, quindi capisce subito che non ha bisogno di mosse stravaganti. Si sdraia semplicemente a terra. Dà un colpo con un movimento e un calcio. È semplice. Per chi pratica arti marziali, l'utile è bello. Ciò che è inutile, oppure troppo fantasioso invece, non lo è affatto. Nel Kung Fu, i calci sono davvero numerosi. Abbiamo il Deng Tui. Abbiamo il Chuai Tui, oppure il Bian Tui. Ed è praticato anche il calcio alto, con rotazione. I calci a spazzata, che possono essere frontali o posteriori. Ci sono anche i calci volanti e le ginocchiate aeree. Quindi comprende tutti i vari tipi di calci presenti nelle arti marziali. Anche i pugni sono gli stessi. Uno porta un nome di origine cinese, poi viene usato anche uno tipico della box. Uno è il pugno teso, mentre l'altro è il gancio. E ne fa parte anche il montante, ma nel Kung Fu si chiamano semplicemente Ziquan, Baiquan, Guquan. Ne hanno anche un altro, uno dove viene praticato un giro, una rotazione. Quando si combatte, si dà un colpo e si colpisce anche con un calcio o con un pugno all'indietro. E avanti e indietro. Si usa anche l'avambraccio in combattimento. Si colpisce proprio qui. Questo movimento lo chiamiamo Bianquan. È come uno scatto, come se si avesse una corda. Basta uno scatto, così. In questo modo. Questo pugno è molto potente. Questo si chiama Quai Tui, calcio laterale. Il Quai Tui è un famoso calcio parte della tradizione cinese. Credo che sia uno dei calci che Bruce Lee usa più spesso nel film. Questo calcio laterale ha una grande potenza. Ha preso dal Wing Chun. Questo movimento è davvero il più rappresentativo tra tutti gli stili del Wing Chun. E ha preso il nome cinese. Viene chiamato Gulu Sho. Ti spingono in modo diretto e poi sentono che tu spingi a tua volta e allora le mani tornano indietro. Poi, siccome tu spingi verso di me, io mi metto a combattere contro di te. È come un impatto. Ecco perché, nel film, hanno voluto mostrarlo. Se tra le tue abilità c'è il salto mortale all'indietro, allora puoi farlo naturalmente. Sta cercando di dire alle persone che si trovano ad affrontare diverse situazioni che tipo di tecnica utilizzare. Come potete vedere, prende la gamba e poi la solleva. In questo lasso di tempo, si può eseguire il salto mortale all'indietro assieme al calcio. Penso che sia possibile. Il modo più semplice è che dopo che mi ha afferrato la gamba, posso iniziare dare dei pugni in modo da spingere l'avversario rapidamente sul pavimento e poi colpirlo. In realtà, credo che questo sia probabilmente più utile. I film di Bruce Lee. Si può chiaramente vedere che hanno portato molti milioni di persone a imparare un'arte marziale. Ho visto questo film e nel 1983 sono andato a Shaolin. Credo che il vero combattimento non sia assolutamente questo. Se qualcuno ti guarda, vuole combattere. È semplice. È una questione di dare un pugno o un calcio. Non devi metterti in posa. Questo è solamente per il cinema. È per lo spettacolo. Quella posa è di Wong Fei-Hung, dai film di Jet Li l'hanno creata loro. La riconosco immediatamente. Non appena la vedo, so che è una posa di Wong Fei-Hung di Jet Li. E l'altra che possiamo vedere potrebbe essere la Gru, o qualcosa di relativo a altri stili di Tai Chi. Dunque, posso dire che sembra che abbiano mescolato molti stili diversi in questa scena. Fanno questa mossa in particolare, poi passano a fare quest'altra. L'ultima, fa parte del Shaolin. Anche il Bagi ha questo tipo di movimenti, che sono molto potenti. Tentano di imitare anche gli stili adoperati da Bruce Lee, ma effettivamente non presentano i suoi stessi movimenti, che sono davvero molto facili da riconoscere. Avevo sentito dire che faceva allenamento in questa pratica. Per sei mesi si è allenato, e devo dire che per dare prova di questo tipo di performance è piuttosto bravo. Si vede chiaramente che l'energia c'è in loro. Se dedicassero davvero del tempo ad allenarsi, nel vero Kung Fu, entrambi potrebbero diventare veramente molto bravi. Nei film di Kung Fu cinesi piace molto mostrare alcuni incredibili effetti. E il pubblico può vedere quanto sia bello il Kung Fu. Per esempio quando volano, o quando finiscono in ginocchio sul pavimento di legno, e si ammacca. Non è necessario vederlo fare alcun movimento elaborato. Solo da quello si può già capire che il ragazzo è molto bravo nel Kung Fu. I combattimenti di Kung Fu non sono proprio così. Ma posso comunque dare loro un 5. Lo stile di Jackie Chan è diverso, adatto alla strada, con un solo lottatore e molti avversari. È davvero molto bravo nei film d'azione con il Kung Fu. È decisamente realistico. È divertente ma realistico. Per esempio, come in questa scena in cui usano l'appendi abiti. Possono usare sedie o qualsiasi cosa, in particolare se si è soli contro più avversari. E oltretutto, è anche particolarmente flessibile. A sinistra combatte un tizio e a destra ne arriva un altro. Si vede che sa quel che fa. Quindi risolve rapidamente la questione e deve spostarsi ancora. Non può continuare solo a fare così fregandosene degli altri. Nella realtà, se vi trovate, in qualche modo, in una brutta situazione del genere, che potrebbe mettere in pericolo la vostra vita, e avete l'esperienza per combattere, non potete scappare. Ma dovete passare all'azione. Per avere stile in combattimento come Jackie Chan, bisogna studiare, allenarsi. Si vede che corrono e combattono. Si ritrovano in un luogo in cui non possono scappare, e capiscono che non ci sono vie di fuga come finestre. O comunque una grande recinzione che non si può scavalcare, e allora devono combattere. Anche nello Shaolin ci si allena a volte uno contro due, tre, oppure cinque. Di solito non attaccano tutti insieme, perché sarebbero troppo vicini e finirebbero per colpirsi a vicenda. Personalmente, in questo caso credo che il calcio sia stato dettato solo dalla recitazione. Ma se sono davvero dei lottatori dotati, è possibile. Perché, come potete vedere, si sorreggono all'appendiabiti, e calciano proprio in questo modo. In effetti vediamo molti soggetti di questo tipo, che si prendono a pugni, e quando si dà un pugno. Possono letteralmente volare. Con un calcio è lo stesso. Può davvero succedere. Se una persona è molto forte, può succedere la stessa cosa. Solitamente, gli avversari si aiutano a vicenda. Per esempio, quando Jackie Chan si tiene la gamba, e gli altri le due gambe, cercano anche di tenergli la vita. È da stringere più forte, in modo da agevolare il movimento quando lo si lancia. In realtà, se vuole, può farlo anche lui. Di fatto, se tengo la tua gamba in questo modo, immagina che la tua gamba sia libera o meno, soltanto usando questa presa, posso farti roteare. Credo che il voto debba essere piuttosto alto, darei un 8 o un 9. Sono Tekla, stuntwoman e campionessa mondiale di arti marziali. E pratico nunchaku e arti marziali da circa 18 anni. Oggi analizzeremo scene con nunchaku nei film. È uno stile di nunchaku molto tradizionale. Un sacco di passaggi sotto la mano, il che è straordinario e vecchia scuola. Le catene più lunghe potrebbero essere più pratiche. Più lunga è la catena, più lontano è il raggio d'azione. Credo che fossero nell'ultimo filmato. Perché quelli con cui gareggio io hanno una catena più corta, si possono fare cose più pompose. Non solo l'ha impugnata in modo tradizionale, cioè con il pollice rivolto verso la catena diciamo. Ma quando ha cambiato mano, le ha fatte arrivare da dietro, almeno un paio di volte. Non lo si vede spesso, è uno stile. Penso che sia come per i coltelli. L'impugnatura standard e poi l'icepick, al contrario. Credo che questa sia diciamo quella versione. È la presa normale. Ma è bello vederla in questo modo, perché ovviamente funziona ugualmente. È comunque elegante. Non si inizia sotto l'ascella. Un'altra mossa tradizionale. Ma di solito li fanno girare, li prendono sotto l'ascella, e poi li rilanciano. Penso che sia più un modo subdolo di farlo, piuttosto che caricare partendo da qui. Si pensa non possa essere possibile, ma viene da strumenti tradizionali, che provengono dalle fattorie. Si adoperava per colpire i chicchi di riso, oppure per smuovere il grano. E poi qualcuno si chiese se potesse essere usato anche per colpire qualcuno. Non posso dare un voto a Bruce Lee? 10. I nonciacu portatili e nascosti sono davvero fantastici. Mi è capitato di tenerli nello zaino o nella borsa, dimenticandomi addirittura di averli con me. Sono di certo molto facili da nascondere. Fantastico! Mi piace. Adoro il fatto che li abbia usati per affrontare un gruppo di persone che lo stanno circondando. Credo sia proprio questo, l'uso migliore che si possa fare dei nonciacu. Se giri abbastanza velocemente, a nessuno viene voglia di attaccarti. Penso che questo sia un ottimo uso di un'arma flessibile. Se avesse avuto un bastone, qualcuno avrebbe potuto afferrarlo e disarmarlo. È molto più facile farlo se si tratta di un'arma del genere. Ma con i nonciacu, è spaventoso solo pensare di provarci. Fa paura a chi lo usa, figuriamoci a chi è davanti. Le spade che si vedono in questa scena sono fatte davvero bene, perché sono praticamente fatte di pezzi di bambù stratificati insieme. Penso che dovrebbe davvero verificarsi una tempesta perfetta perché ciò possa accadere, considerando che questi non sono poi molto affilati. Ma stiamo parlando di Donnie Yen, quindi. È possibile? Se avessero deciso di attaccarlo circondandolo, quasi certamente lo avrebbero potuto sconfiggere. Ad ogni modo penso che questo sia un'ottima scena. Che mette in risalto l'efficienza e l'uso dell'arma. Quindi non lo so, 9. Passa dietro, buono. Anche in questo caso si vedono molti colpi lineari, non tante soluzioni di fantasia quando si interagisce con altre persone, con colpi diagonali, laterali e verso l'alto. Colpire dall'alto era probabilmente la cosa meno pratica da fare. Mi piace di più la versione di Donnie Yen, che attacca tutti insieme, perché quest'ultima scena l'ho trovata piuttosto coreografata, in cui tutti i cattivi arrivano al momento stabilito, il che è ovviamente plausibile. Penso che se sei una banda che cerca di fare del male a qualcuno, conti fino a tre e poi attacchi. Li finisce con un calcio. Ha usato molti più calci tipici delle arti marziali, assieme ad altri movimenti, invece di limitarsi a ruotare in un ciaku. Perché ovviamente chi sa usare in un ciaku deve avere un po' di esperienza nelle arti marziali. Ed è proprio questo che ha reso la scena ancora più realistica. Colpi eccezionali. Ma poi ci sono stati alcuni movimenti più complessi, ad esempio come quando ha avvolto il braccio del ragazzo, che mi sembra abbia richiesto un po' più di tempo di quanto probabilmente sarebbe stato necessario. Se qualcuno sta per tirarti un pugno, non hai tutto questo tempo per farlo. È certamente plausibile, pur sembrando ancora appositamente coreografato e fatto per il cinema, è stato molto più credibile di quello visto in clip precedenti, dove c'erano solo tante mosse particolari. Sarebbe davvero un'esperienza spiacevole essere colpiti alla mascella o agli occhi. Naturalmente un'arma affilata è più pratica in un combattimento reale, se si vuole davvero fare del male a qualcuno. Ma credo che, se si sa usarli nel modo giusto, alla fine siano come un bastone. Pensavo che non fossero così efficaci o validi, perché pensavo che rimbalzassero. Ma se si colpisce solo con l'ultima parte, l'effetto sarà quello di un colpo di frusta, e quindi la potenza sarà notevole. Non è la cosa più facile da usare in un combattimento concreto, ma penso che potrebbero essere pericolosi se usati nel modo giusto. Forse, potrei dargli un 7. Terribile. Non credo che la fisica funzioni, ma è una bella mossa. Mi è piaciuto che il personaggio di Bruce Lee abbia schivato. È molto abile a schivare così vicino a in un ciaco. Ma mi è piaciuto che abbia fatto un passo indietro, preso a pugni il tizio, e preso in un ciaco, che è quello che si vuole fare per disarmare. Si vuole arrivare oltre, e riuscire a superare quel punto, in cui vi è più potenza. C'è stato un momento, in cui colpiva il tubo e poi colpiva la mano del tizio, un'azione davvero azzeccata e ben pensata, perché colpire le dita sarebbe tremendo. Ma non riusciresti a togliere il tubo dalla mano di qualcuno. I muscoli importanti per i non ciaco. Uno dei principali è il polso per i movimenti più complessi, poi ovviamente il braccio e la schiena, mentre la forza viene dai fianchi. L'ampiezza di movimento è importante, probabilmente più della massa muscolare. Questa è difficile, perché mi è piaciuta parecchio. Ha mostrato una varietà di stili, ma se dobbiamo valutarla in base alla praticità, direi sette o giù di lì. Ciao a tutti, sono Zack Sombe, e sono un professionista del Kung Fu Wushu. Ad oggi, sono ormai 26 anni che mi alleno e insegno il Kung Fu. Oggi analizzeremo delle scene di combattimento con lance e bastoni. È un'ottima coreografia, davvero molto avanzata. La lancia è di sicuro una delle armi più impegnative. È come un drago. Il drago è un essere flessibile, è delicato, e allo stesso tempo, molto potente. Se impugno una lancia, cerco di colpire in questa maniera, e poi torno indietro, in modo da poter rimbalzare. Ed ecco perché la flessibilità è di fondamentale importanza. Quindi, se la lancia non è flessibile, non sarà facile rimbalzare. Se sei abile nel Kung Fu, allora riuscirai a fare questo senza problemi. Sto impugnando una lancia. Se mi sposto così, allora è un blocco. Se incontro qualcuno che cerca di trafiggermi con la sua spada, allora io prima lo blocco, poi prendo il controllo, e infine lo trafiggo. In questi casi non si sa cosa può accadere. Se con la spada cercano di colpire la testa, stai nel cerchio e fai lo stesso ma più in grande. Poi blocca, prendi il controllo e fa un passo, spostati. Nelle arti marziali, nel Kung Fu, si può fare così e muoversi, anche in situazioni concrete si può tagliare in questo modo, non è un problema. Molto intenso. Qualunque tipo di arma potrebbe rompersi, è una situazione comune. La lancia che usiamo, persino quella di legno, che è fatta di cera bianca, è davvero molto flessibile. Ma come una pianta, bisogna tenerla annaffiata, altrimenti si seccherebbe, non ci sarebbe più succo all'interno, e diventerebbe molto difficile da far rimbalzare. E devi farla rimbalzare, quindi devi prendertene cura. Se usi troppa forza, finirà per spezzarsi. Dieci per la tigre e il dragone. Questo bastone, è diverso da un bastone normale. Il bastone normale varia a seconda dell'altezza. Deve essere alto quanto la vostra altezza, oppure al massimo, cinque dita in più. Questo bastone è più lungo, è più impegnativo. Se lo tengo come un bastone normale, posso usarlo facilmente, e colpire con la parte posteriore. Ma l'arma lunga, è molto complicata. Se si sposta così sarà un'impresa. L'arma lunga è una sfida. Si possono vedere i movimenti, ha usato molte spazzate. Si vede che spazza la gamba. È davvero un'ottima coreografia. Anche lo stile è molto versatile. Usa la flessibilità perché rimbalzi e colpisca un altro avversario. Usa la lancia, circolarmente. Può fare anche delle mosse con la lancia. È come se combinasse tutto insieme. Il due contro uno è una situazione molto comune, per cui noi facciamo questo tipo di allenamento. Una volta che si è bravi nell'uno contro uno, e nel due contro uno, si può arrivare all'uno contro molti, dipende da te. Se sei bravo in questo, puoi fare così, non c'è problema. La mossa è realistica. Un'arma uguale per tutti. L'arma lunga è una sfida e se qualcuno ti viene addosso, si avvicina molto, devi prestare molta attenzione, perché hai in mano un'arma lunga. Se la impugno come un normale bastone, posso scambiarla facilmente. Posso colpire con la parte posteriore, ma con l'arma lunga è difficile. Forse tenendo l'arma, si cerca di spingere l'avversario indietro. Ogni arma ha un punto di rottura. Punto di rottura significa il punto di rilascio dell'energia, e si trova normalmente in cima o all'altra estremità, talvolta al centro. Il punto centrale dell'energia lo si vede nel colpo, lui colpisce sempre con la parte superiore del bastone. Quindi le persone cercano di avvicinarsi, il che significa cercare di evitare il punto di rottura, il punto di energia. Il film, non è realistico nei combattimenti, ma nella pellicola si vuole dare un effetto scenografico esagerando le mosse. Hanno alcuni punti di pressione. Lui usa questa energia per rimbalzare e colpire. Se colpisci in questo punto con forza, fai andare qualcuno al tappeto, lo metti proprio fuori gioco. Anche a questo film, devo dare un 10. È magnifico. Jet li usa diverse mosse, ad esempio il blocco, che è una mossa di base per la lancia. Blocco, controllo, e passo. Se impugno una lancia, guardo alle opportunità, osservo attentamente l'avversario. Se sferra un colpo, o una spada in arrivo, quando è ancora in aria e sta per arrivare, è lì che vado a bloccare, e poi passo alla mossa successiva, reagisco alla spada e faccio la mossa successiva. Se sei abile, puoi utilizzare questa mossa. Per quanto riguarda i salti mortali, se si sa che il flusso di energia è eccellente, non è faticoso, non ci si infortuna, a meno che non si esageri facendolo più e più volte, in tal caso ovviamente ci si stanca. È davvero sfiancante per chi non è abituato. Mi piacciono tutti questi movimenti, lui è molto bravo, estremamente fluido. Anche lui si è allenato nel wushu. Si può notare che il wushu, presenta un movimento più flessibile, ma anche punti di rottura e velocità. Nel kung fu, non c'è solo la parte fisica, ma anche lo spirito. Si dice jingui shen, ovvero insieme, unirsi come un tutt'uno. Impugnate il vostro bastone o la vostra lancia, e insieme il movimento sarà diverso, sarà vivo. Molto ben fatto. Il termine mandarino per spirito si definisce, quiang. Pensate alla mia mano, come se essa fosse il kanding. Questo viene dalla tradizione, se faccio così, cioè se faccio un cerchio, finisco per confondere l'avversario. Faccio più velocemente, confondo e poi colpisco. Cerco di confondere e stare attento, in modo da colpire in questo modo. È un'altezza normale per una lancia, ma è comunque più lunga del bastone. In un combattimento reale, è possibile possa capitare. Se qualcuno usa il bastone o la lancia per colpire, l'effetto è lo stesso. Si può usare forza per colpire la gamba, quindi si può fare così. Il mio voto per questo film, sarà un 10. Le mosse di Jet li sono semplicemente fluide, estremamente avanzate. Se il video vi è piaciuto, cliccate qui sopra per vederne un altro.